Parte il suo cross all'interno, verso Luvumbo, lo stop mancato da Luvumbo, che poi tenta di andare via, si rialza, il cross di Luvumbo, lo stop di Lappaduraaaaa! Lappaduraaaaa! Ha anticipato la rovesciata di Bancorri, ha controllato il petto e ha spedito il gol, nel Cagliari Versione non serrato, sa collare la voce su gli attaccanti, messa in campo dal tecnico Ranieri, alla fine ha pagato, praticamente ci sono sette attaccanti in campo, Lappaduraaaa! Mette a segno il gol dell'1-1, l'ultimo salto forte a pace, il pallone portato da Viola, dato a Luvumbo, che parte dal settore di sinistra, finge il cross, ancora Luvumbo, con l'esterno, dentro l'area, Shomurodov, lo ha rovesciato i pavoletti! Lassi! 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 L Grazie.